buon ciao raga benvenuti è ritornato pure attivo il post benvenuti a tutti dalla vostra fumetteria di fiducia a trani in questo nuovo smoothing smoothing che inizia il martedì e domani arriverà veramente un sacco di roba e oggi sono pure da solo perciò sarà uno smoothing tutto fare tanti giochi di carte c'è un play mat che spoiler a qualcosa sito delle forbici che però ho già utilizzato raga allora il martedì sono siamo chiusi tutta la giornata quindi ci vediamo domani mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 16 e 30 alle 21 tante tante novità tante cose pirexia ci sta ancora prosegue per giocare gratis e vincere i timbri per vincere dei buoni venite qui giocate gratis a magic a pokemon a disposizione e poi il giovedì ci sarà la premiazione super carnevale il primo contest con insomnia la fumetteria e la scuola baldassarre è fatto un minuto di intro andiamo a vedere partiamo con ritornano le trappolatrici grande antonio falconetti che ha vinto il primo posto del torneo dello structure deck portandosi a casa il tappetino sempre di yugi abbiamo le bustine il elemento tiro poi di pokemon invece ci ritorna bobo bo 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 ciao Richard grande uomo di avuto era un altro bellissima una delle poche in giro e poi l'unica busta prima di scarlatti viola scarlatti scarletto 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 e scarletto e scarletto e scarletto oh che casino c'è tempesta argentata aveva un paio di buste da spostare di pokemon invece di magic troviamo due buste di espansione quelle con la file garantita e la illustrazione sempre figa draft buste per draft 36 buste e poi il collector booster di pirexia in inglese che figata le bustine di joker fighissime della dragon shield sempre vero o no allora è troppo poi infatti della dragon shield abbiamo nebula il colore nebula per chi voleva il purple ci sa anche il purple purple poi abbiamo il magenta questa la battaglia la battaglia di magenta poi 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 un altro nebula tanti nebula un silver un turchese a volo un altro turchese un saffiro e un black matte e così è finito e poi come ultima bomba in esclusiva dall'america bom la complete edition di pirexia mamma mia solo il box mamma mia che figata e qua troverete lo sbusting per forza ma quattro minuti velocissimo che apro quattro minuti un traptics mi piace mamma mia arena di pirexia pirexiana fighissimo fighissima e niente raga questo è tutto 5 minuti di video meglio meglio di niente tante novità altri box magic a domani 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 a ecco perché arriva fino alla fine domani c'è l'offerta del marzo pazzo cioè cioè da domani tutti questi pop in fila vabbè lasciate sarefessimo li aggistiamo però sicuramente da qua in poi raga da qua in poi in giù costeranno per penso che i primi fila disponibilità limitate tutti questi pop costeranno solamente 10 euro 10 euro ne abbiamo selezionati 24 30 31 come i giorni di marzo e costano tutti 10 euro poi qualcuno lo mettiamo di sopra che ti fa faccio tutta la colonna poi troverete il posto seguiteci sui social o 10 euro io li ho già presi due e per forza per forza per forza fighissimi ora che mamma mia che figo ma furisci che dai o anche un break ball e niente raga bello ci vediamo domani per un nuovo video bello